sapete i 10 comandamenti? si li so tutti però non mi ricordo manco uno non desiderare, tornare ad altri, che vuol dire? è bravissimo, questo è bravissimo vuol dire Gesù di Nazareth? si ma tu chi sei praticamente? sono venuto dal cielo, dal paradigma sei venuto qua e come li chiamano? Bambini Gesù proprio a Bambini Gesù voi avete fatto anche la musica, vuoi vedere il cielo e non mi siete ne accorti neanche ci siamo accorti che state qua, no? e il primo comandamento che dice a loro? io sono il Signore Dio tu non avete alcun Dio al di fuori di me, non uccidere, poi non desiderare, non desiderare donna ad altri, non fare falsa testimonianza, li sei quasi tutti, li sono quasi tutti, li ho rammentati io ma chi sei figlio di tu allora? figlio di Gesù di Nazareth come dicevo io, lo sapevo, questo è Gesù in persona, Gesù di Nazareth di cognome come fai? di cognome? no, non è di cognome, mi chiamo Bambini Gesù ciao